Da notare questa bellissima camera con questo letto molto accogliente. Guardate qui c'è la bajour che rende l'atmosfera ancora più spettacolare. C'è un bel letto contornato da due cuscini molto comodi e morbidi, con un cuscino centrale che rende l'idea della bellezza di quando si fa una dormita, che è una cannonata, spettacolo. Qui c'è la vetrata con il bellissimo balcone sul bosco, c'è una pioggia torrenziale, non importa. L'importanza è godersi questi attimi di relax e qui c'è su un tazzino e caffè per la colazione del giorno dopo. Guardate lo spettacolo di questa camera, con quel bel dipinto dietro, che non mi ricordo di chi è, però è uno spettacolo. Anzi, non so neanche di chi è quel dipinto lì. Però guardate che spettacolo questa camera. Oh yeah!